Ben trovati a tutti a questa nuova puntata di Insieme con la rassegna di giornali della provincia di Belluno. Abbiamo tra le nostre mani per questa puntata il Cadore della Magnifica Comunità, Alpini sempre, il periodico della sezione di Feltre e dell'Ana e la voce della parrocchia e il bollettino di Trichiana. Iniziamo con il Cadore edito dalla Magnifica Comunità. Voglia di primavera, l'immagine è molto esplicita anche se pensando alla scorsa settimana è apparsa ancora la neve, di primavera sembra ancora un po' difficile parlarne, ma questa settimana pare andare meglio. Dunque, voglia di primavera. Sfogliamo alcune pagine. Il Cadore ha due donne sindaco a Palazzo Piloni. È stato eletto il nuovo Consiglio provinciale che rimarrà in carica per due anni fino al marzo 2026. Il Cadore è rappresentato da due sindache, Silvia Caligaro e Sindy Manusci. Un articolo che parla di sostenibilità demografica e territorio. Riprendiamo anche, riprendono i dati di quello che abbiamo già avuto modo di sfogliare la scorsa settimana sulle pagine di Conf Artigianato Belluno, sull'inverno demografico. Una ricerca che è stata fatta, una proiezione demografica per il prossimo decennio fino al 2031 e viene ripreso anche dal mensile Il Cadore. Una ricerca sulle proiezioni demografiche al 2031 nella provincia di Belluno. Trattandosi del mensile Il Cadore, passiamo subito a vedere la situazione. Com'è in Cadore? Contro lo spopolamento è di un anno fa la notizia che anche il Cadore entra nei progetti di aree interne. È un ulteriore sostegno che la Regione del Veneto intende garantire alle aree più periferiche delle nostre montagne e a quella comunità che continuano a essere il vero presidio di un territorio delicato e prezioso, spiega così l'assessore al turismo della Regione del Veneto Federico Caner. Bene, la zona del Cadore, leggiamo solo qualche riga, è composta da 13 comuni che nel corso degli anni hanno visto la popolazione scendere del 7,44%. Auronzo, Borca, Calazzo, Cibiana, Domeggie, Lorenzago, Lozzo, Perarolo, Pieve, San Vito, Valle, Vigo e Vodo di Cadore. Ecco le proiezioni che riprendono già quanto abbiamo visto la scorsa settimana sulle pagine di Confartigianato. Anche l'articolo successivo riprende proprio questo tema, lo spopolamento del Cadore e la sua implicazione sulla perdita di competitività per le aziende della pianura. Per invertire questa tendenza e preservare la competitività delle aziende, non solo del nostro territorio, è necessario adottare una visione olistica e proattiva, scrive Marco Genova. Olistica e proattiva significa una visione d'insieme e che guardi appunto al futuro, che pensi soprattutto a cosa poter fare. Le iniziative volte a stimolare lo sviluppo economico della montagna, così come delle aree interne, garantendo al contempo un equilibrio sostenibile con l'ambiente, sono cruciali. Investimenti nell'istruzione, formazione professionale e supporto alle piccole imprese. cercando, creando reti locali, sono solo alcune delle misure che possono essere adottate per affrontare questo problema in modo efficace. Affrontare questa problematica, conclude Marco Genova, richiede una visione a lungo termine. Un impegno coeso e soluzioni innovative che preservino la ricchezza culturale e la competitività delle aziende italiane, coinvolgendo montagne e pianura, aree metropolitane e aree interne, come appunto è il Cadore. Solo attraverso una collaborazione attiva e consapevole, tra diversi ambiti geografici, è possibile invertire il declino derivante dallo spopolamento delle comunità come la nostra e garantire un futuro sostenibile per tutte le regioni coinvolte nei percorsi di crescita. Continuiamo a sfogliare ancora qualche pagina. Si parla della residenza per anziani e da Auronzo di Cadore. Le radici della struttura affondano nel passato. A seguito delle elezioni amministrative del 2022 si è insediato un nuovo consiglio di amministrazione. Si è incontrata Eride Vecelio per conoscere la situazione della gestione della residenza per anziani ed è emerso che il nuovo consiglio si è impegnato sin dal momento della nomina in un profondo lavoro di ricostruzione e ristrutturazione gestionale dell'ente. Leggiamo qualche frammento delle due pagine. Grazie a questo lavoro capillare a 360 gradi di ricognizione appunto della struttura è stato possibile poi incrementare anche l'accesso. Oggi la struttura conta su 71 ospiti in prevalenza non autosufficienti. I piani per il futuro sono chiari, lo scopo e l'impegno che il consiglio si è dato è quello di poter continuare nell'opera di rigenerazione di una struttura storica del paese mantenendola funzionante ed efficiente con tutte le specificità necessarie per garantire un'assistenza ottimale e di qualità alle persone che necessitano e necessiteranno dei servizi offerti. Sfogliamo qualche pagina ancora. Interessante una scoperta archeologica che è stata fatta durante i lavori in vista delle olimpiadi. Archeologia preventiva a Valle di Cadore rivela un villaggio preromano. Leggo solo qualche riga. In vista della costruzione di una nuova galleria stradale a Valle sono stati condotti scavi archeologici preventivi che hanno portato alla scoperta di un villaggio di età preromana. La verifica fatta in collaborazione con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio ha individuato tracce del villaggio all'imbocco dell'opera stradale. Per non rallentare i lavori sono stati rilasciati pareri intermedi man mano che le aree indagate venivano liberate. Interessante questa scoperta che se non ci fossero stati questi lavori non sarebbe stata possibile. Le penne nere del Cadore in Assemblea Santo Stefano il vicepresidente Balestra ha grandi novità per la sezione. Si parla poi di un campo avanzato per giovani maggiorenni che abbiano già frequentato un campo scuola ANA e che intendono poi arruolarsi con la ferma volontaria tra gli alpini. Quindi è la proposta di un campo dedicato a questi giovani che poi potrebbero avere anche l'intenzione di arruolarsi. D'altro canto si raggiunge anche il risultato di avere nuove forze, l'arruolamento negli alpini per potenziare e migliorare il settore della protezione civile che ha sempre più impatto nell'attività dell'ANA sia a livello nazionale che a livello locale. Poi altre pagine ci raccontano un'intervista, quattro chiacchiere con Mariana Offer, sindaco di Valle di Cadore. Ecco voglio prendere solo spunto da questa domanda per prendere e leggere la risposta. Qual è stato il momento che ricorda con più soddisfazione? Sostiene Mariana Offer, il sindaco. La riapertura di San Martino è stato il momento che ricorda con più soddisfazione la chiesa di San Martino. L'essere riusciti a salvare la nostra chiesa con il concorso di tanti e con le risorse economiche che l'assessore Giampaolo Bottaccini è riuscito a trovare. È stata un'operazione straordinaria che credo non sia replicabile. Un insieme di circostanze, un impegno corale e poi la bellissima giornata della consegna del bene alla comunità con tantissima gente e il presidente della regione Luca Zaia. Qui vediamo appunto il sindaco Mariana Offer con il presidente della regione Veneto Luca Zaia. Ecco altre pagine le lasciamo al vostro interesse, il cadore della magnifica comunità. Passiamo a Feltre, Alpini sempre. Una bellissima immagine questa anche del ponte del ponte vecchio di Bassano del Grappa, il ponte degli Alpini. Un articolo interessante a firma di Nicola Mione, che ne sarà della Zanettelli? Si parla della caserma che è stata per anni appunto al luogo di attività. Hanno partecipato al consiglio comunale durante il quale si è appunto parlato della destinazione appunto della caserma Zanettelli. Ancattonate per gran parte le precedenti ipotesi di recupero e riutilizzo, è stato commissionato un nuovo studio ai tecnici comunali, che porterà all'acquisizione dei beni dal demanio, alla loro messa in sicurezza e al loro utilizzo. Sì, ma quale utilizzo? Si chiede appunto Nicola Mione. E questo è il punto. Stando alle ipotesi avanzate, l'amministrazione Fusaro entro il 2026 intende usare i fondi europei di confine per mettere in sicurezza le strutture e i tetti delle palazzine, trasformare le palazzine di alloggio in un archivio, mentre la palazzina di comando diventerà la sede della polizia locale. Sempre nella palazzina a comando sembra possa essere trovato spazio delle associazioni di protezione civile, che in assenza di indicazioni specifiche probabilmente però non saranno alpine. Di certo, appunto conclude Nicola Mione, la nostra attenzione sarà alta per vedere appunto gli sviluppi di questa problematica, di questo problema e della destinazione d'uso della caserma. La consegna del cappello alpino, questa è avvenuta a Bassano del Grappa lo scorso 3 febbraio, una ritualità che guarda al futuro. Il 3 febbraio, sempre Nicola Mione che scrive, la città di Bassano del Grappa ha avuto l'onore di ospitare un evento dall'alto valore simbolico, che ha vista la consegna del cappello alpino a 200 volontari a ferma iniziale, dopo aver completato il loro percorso di formazione presso il centro addestramento alpino di Aosta. Non si è trattato quindi di una cerimonia di giuramento. E qui vediamo però appunto due immagini che raccontano della consegna appunto del cappello alpino dall'alto valore simbolico. Un cenno alle iscrizioni i campi scuola ANA 2024 per i giovani tra i 16 e 25 anni. Ti aspettiamo. L'Associazione Nazionale Alpini nel 2024 organizza 13 campi scuola, e qui li vediamo riportati, non li citiamo ma sono riportati, per ragazze e ragazzi dai 16 ai 25 anni, della durata di 15 giorni ciascuno. Il primo inizierà il 15 giugno, gli ultimi si concluderanno il 31 agosto. Nel periodo di permanenza al campo, si rivolge ai giovani, l'articolista, incontrerai i volontari delle varie specialità della protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini e della sanità alpina. Inoltre, visto lo stretto legame dell'ANA con le truppe alpine, potrai incontrare i militari e visitare anche alcune caserme operative. Ecco quindi la proposta per i giovani tra i 16 e i 25 anni di partecipare a questi campi estivi. E ci sono appunto i luoghi e le date disponibili. Altre pagine, l'Assemblea degli Alpini, la sezione ANA di Feltre gode di ottima salute. Si fa il resoconto appunto dell'Assemblea Generale, la presenza anche di Don Bruno Fasani e del cappellano degli Alpini di Feltre, Don Fabrizio Tessaro. Il quadro che delinea è quello di un'associazione che gode di ottima salute nonostante la sospensione che sa molto di definitivo della leva obbligatoria, riuscendo comunque a mantenere oltre 4.200 iscritti appunto alla sezione. Qui vediamo alcuni momenti della giornata appunto dell'Assemblea. E anche Don Bruno Fasani che ha celebrato la messa, ha presieduto la messa in ricordo anche degli Alpini andati avanti, come si dice. Don Bruno Fasani è della diocesi di Verona. Alpini sempre dunque, la sezione ANA di Feltre. Concludiamo gli ultimi minuti, la voce della parrocchia Bollettino di Trichiana. L'articolo di fondo è del parroco Don Eginio Dal Magro. Si parla della chiesa parrocchiale che necessita di alcuni interventi importanti soprattutto al tetto. È dal 1785 che la nostra chiesa sta lì, quasi sentinella, meglio ancora amica. La chiesa che dona i sacramenti, battesimo si parla, matrimoni, prima comunione. Quante volte poi continua Don Eginio la nostra chiesa anche pianto, tante bare, tante lacrime. Sì, la chiesa nonostante i 239 anni sta lì ancora ritta, attenta. Il suo sguardo era serenante e buono. Continuando poi a pagina 5, appunto, si fa riferimento ai danni provocati ancora dalla tempesta vaia. I danni al tetto sono stati riparati in parte, ma non tutti. Ci è voluta una doppia ispezione per scoprire i danni ancora più seri. L'acqua penetrava in più punti e era penetrata fino all'interno del soffitto. Ci viene in aiuto la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, con un contributo preso dall'otto per 1000. Ora con questo contributo si può affrontare la spesa con una certa serenità. L'aiuto dei concettini di Tricana non mancherà. Del resto questa chiesa è bella e di grande valore storico e artistico, oltre che monumento di fede, della fede dei nostri vecchi. Possiamo esserne veramente orgogliosi tutti, è la nostra chiesa. Tra le pagine interne del bollettino si riporta il verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Tricchiana dello scorso 22 gennaio. sfogliando ancora tanta beneficenza con i lavori manuali del gruppo missionario. Degno di nota ricordare che da molti anni il gruppo missionario è attivo e abbiamo iniziato nel 2007 con un primo allestimento nella casa di riposo. Nel corso degli anni abbiamo raccolto e consegnato direttamente circa 70 mila euro, portando il nostro aiuto concreto a progetti in Patagonia, Kenya, Uganda e da qualche anno anche in India. Sfogliamo ancora qualche pagina. La musica e linguaggio universale si ricorda il quarantesimo del coro polifonico di Tricchiana che ha proposto nell'arco del 2023 alcuni concerti e ha ospitato anche altre componenti corali. Un ultimo articolo, mi soffermo, gli ultimi minuti, l'ultimo minuto che abbiamo a disposizione, giovani e alcol che fare, un articolo interessante sulle dipendenze giovanili soprattutto dall'alcol. Che fare? Bisogna riprendere in mano la situazione, cominciando da tre punti cardine. Irrinunciabilità della conoscenza come fattore di prevenzione, coinvolgimento più ampio della società, nessuno può chiamarsi fuori, associazioni, parrocchie, luoghi in incontro e di intrattenimento, ognuno deve fare la propria parte e consapevolezza che occorrono tempi lunghi. Ecco, il velitarismo del tutto è subito, non aiuta, anzi è controproducente. Se non si tratta di affrontare una battaglia, bensì proprio una vera e propria guerra, una guerra culturale che verosimilmente richiederà il tempo di una generazione o forse più. Ecco, questa è la voce della parrocchia e il bollettino di Tricchiana. Il tempo a nostra disposizione è terminato, io vi ringrazio dell'attenzione, della disponibilità, dell'ascolto che ci avete dedicato e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti.